Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 10 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Mercoledì insulso, con le pive nel sacco. Con una giornata lavorativa particolarmente pesante sulle spalle, vi ritrovate con la testa un po' confusa, fate qualche errore di distrazione, ma per fortuna nessuno se ne accorge e seppur sia già a tardo pomeriggio vi ritagliate tempo a sufficienza per rimediare. Chiacchierata molto intima con un amico, con chi sappia conquistarsi la vostra fiducia avete un mondo interiore ricchissimo tutto da svelare. Finanze relativamente tranquille, sicuramente più di voi, con la mente sempre in fermento pronta a farsi carico dei problemi di tutti e a sobbarcarsi anche incombenze che toccherebbero ad altri. Come stamani, per esempio, ma chi ve l'avrà fatto fare di accollarvi oltre alle vostre incombenze anche quelle dei collega preso da problemi personali. Vero che Mercurio e Plutone vi hanno dato una mano, ma il grosso l'avete svolto voi, siete più disponibili per gli altri che per voi stessi. Un rapporto profondo, disinteressato, aperto a sacrifici e ad un equilibrio radicato e profondo. L'amore che è nato, o sta per nascere, potrebbe essere solido e maturo, responsabile. I single beneficeranno di un periodo di riflessione molto fruttuoso e non è escluso che al termine del quale potrebbero essere interessati ad incontri importanti. Oggi Marte vi metterà decisamente di cattivo umore, non badate tuttavia a chi si prodica per farvi innervosire ulteriormente. Tirate avanti e guardate il futuro pensando che presto il nervoso vi lascerà. Vicino a voi c'è qualcuno che è segretamente innamorato di voi o perlomeno vi vuole un gran bene, forse dovreste cercare di cambiare atteggiamento e di apprezzare la sua discrezione. Non lanciatevi a capo fitto in una storia che non è ancora stata collaudata. Cercate di essere più prudenti. Non abbiate timori oggi di organizzare diversamente la vostra vita e le vostre giornate, fatelo in funzione di avere mano libera per decisioni concrete che potrebbero influire, in un modo o nell'altro, sul vostro futuro. Sarai un po' distratto. Avrai voglia di divertirti. Consigliato L0 Sport. Giornata piacevolissima. Sarai corteggiato e ti sentirai molto bene. Controllate la vostra alimentazione e il vostro stato di salute, seguite consigli e pareri di medici interpellati. Un buon giorno per iniziare una sana dieta che vi farà ben presto risplendere di luce vostra. Non temete di guardarvi intorno oggi, buone occasioni per nuove conoscenze o possibilità di rivedere qualche vecchio amico che potrebbe essere più interessante del solito. I nati di lunedì e sabato avranno una schiarita in alcune situazioni che si erano tremendamente complicate. Gli altri dovranno fare i conti con Marte che oggi mostra segni di impazienza nei vostri confronti. Incontri interessanti. Possibilità di nuove collaborazioni vantaggiose. La primavera, vostra stagione preferita vi vede pimpanti e sempre in grado di stupire chi vi circonda. La prontezza di spirito di cui date prova in ogni occasione vi rende insostituibili. Ironia e autoironia sono le vostre fedeli compagne di strada e vi consentono di aprire oggi molte porte. Motti planetari che incoraggiano una notevole gioia di vivere e un miglioramento generale per voi in diversi campi. Bella mattinata con la luna frizzante e chiacchierona in sé stile al vostro segno e per di più abbracciata a Mercurio, sempre dinamico e mutevole, al passo con i tempi, ma ben lungi dal gettare il cervello all'ammasso. Stanchezza pomeridiana col passaggio lunare in dodicesima casa, per giunta sotto tiro di Plutone, che tuttavia nei vostri confronti dall'amico acquario che vi solletica con un trigono, ha nuove idee da regalarvi, notizie fresche, principi libertari a cui appellarvi. Amore ed Eros. Amicizia e basta, di amore oggi non si parla, la mente è concentrata su altri obiettivi e problematiche che con il cuore non c'entrano affatto. Se avete appena chiuso una storia o lasciato a metà un flirt vacanziero preferite sorvolare sull'argomento per non farvi male, l'autolesionismo non è nelle vostre corde, favorevoli semmai alla logica del chiodo schiaccia chiodo. Con gli amici condividete alcune opinioni, altre tassativamente no, ma questo non significa che vi vogliate meno bene, discutete, sicuramente, ma senza arrivare al litigio, l'affetto che vi lega vi obbliga a fermarvi prima. Lavoro e denaro. Mattinata decorosa sotto il profilo del rendimento professionale, l'unione fa la forza e in gruppo, grazie all'energia messa in comune, velocizzate il ritmo. Caduta di tono pomeridiana, proprio nel momento clou, se avete già sbrigato tutte le impellenze la fase progettuale non vi risulterà pesante, lavorare con calma è tutta un'altra cosa. In ripresa gli studi dopo le vacanze, magari se vi foste date un po' più da fare i voti sarebbero stati un po' più alti, ma poiché nonostante li amiate e li affrontiate con piacere gli studi non sono il 100% della vostra vita, siete contenti così, un bel viaggio alle spalle da ricordare e un buon voto per andare avanti verso il traguardo. Benessere. Aprile non ti scoprire raccomanda il proverbio, seguito da aprile ogni giorno un barile, peccato che la pioggia primaverile a voi non faccia granché bene. Già alle prese con allergie, nelle giornate umide arrivano anche indolenzimenti alle ginocchia e alle spalle. Coccolateli con un massaggio applicando pomata all'arnica, dal noto potere antidolorifico e sfiammante. Denaro. Siate prudenti della gestione dei vostri conti questa giornata. Saturno Dio delle questioni patrimoniali, insieme a Giove, non vi guarda di buon occhio. Conviene sempre stare in guardia per voi specie se siete nati nella seconda decade. Per lei, la vita spericolata oggi non è nelle vostre corde, anche nella gestione di affari o nelle iniziative professionali stentate un po' a carburare e a calibrarvi sui ritmi consueti. Anziché al lavoro, il vostro mordente lo riservate ad altre situazioni. Ben più maliarde. Per lui, caduta di tono serale, a dominare la scena emotiva e il forte disappunto per una questione che non siete riusciti a dirimere come avreste desiderato, scontrarvi con le vostre sconfitte vi mette subito di malumore. Colore delle emozioni, biscotto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. . Grazie a tutti